Ho 24 anni e sono una laureanda del corso magistrale di archeologia e sono stata a Heidelberg in Germania dove ho studiato appunto archeologia. Siamo entrambe laureande del corso di laurea magistrale in studi bilaterali italo-tedeschi e abbiamo frequentato il nostro secondo anno di corso a Bonn in Germania. Rispetto all'Italia l'Olanda è molto molto diversa e nell'ambiente accademico la didattica direi che è quasi opposta. Come sistema era differente, era quasi impossibile rimanere indietro. I corsi sono la maggior parte, sono a livello seminariale, quindi c'è molto dibattito, confronto sia col professore che con gli studenti e quindi le lezioni sono anche molto vive. C'era molta interazione fra il docente e gli studenti, discutevamo di tutte le cose, facevamo molti esempi e soprattutto c'era molto spazio per la discussione. Come primo impatto può far paura doversi trovare a compilare moduli in un'altra lingua, però ci sono diversi uffici Erasmus che assistono gli studenti durante soprattutto le prime fasi iniziali. Prendere una decisione del genere può essere difficile perché partire se si parte da soli vuol dire cominciare praticamente da zero in una città che non conosci, con posti che non conosci, con persone che non conosci, però ci si adatta facilmente, si va avanti e soprattutto si conoscono tantissime nuove persone. Persone da tutto il mondo, da tutti i continenti e questa è stata una delle cose più belle, penso, dell'Erasmus. Nuove prospettive sulle materie che studio, nuove prospettive anche sulla nostra cultura, la cultura italiana, come è vista all'estero e come noi vediamo quella degli altri. Una volta tornata a casa infatti quello che si prova è un grande senso di arricchimento, ci si sente per così dire un po' meno italiani e molto più europei. L'Erasmus lo consiglio vivamente a chiunque perché è stato l'atto di coraggio più bello e più istruttivo della mia vita finora e se potessi io partirei anche domani per un nuovo atto di coraggio e una nuova avventura. Grazie. 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 Grazie a tutti.